ciao ragazzi bentrovati bentrovati agli appassionati di giaco bentornati al mio la mia sezione video dedicati allo studio dell'approfondimento in modern electric bass questa è la puntata numero non lo so facciamo 10 9 non me lo ricordo siamo arrivati dopo la jam mi quindi a minuto circa 17 del video didattico modern electric bass appunto quando giaco fa vedere a jerry lo studio del questo caso le triadi maggiori per semitoni quindi avanzandoli un semitono alla volta su due ottave con le sue diteggiature quindi lentamente lui parte dal sol fa questo mappe madre Allora ha fatto tutte le triadi a due ottave, quindi sol e scende, la bemolle, fino ad arrivare al si e chiude l'esercizio a sua maniera con i bicordi, quindi prende la scala di si e l'armonizza e fa si, poi quarto mi maggiore, re diesis minore, do diesis minore, si maggiore, la diesis minore, in questo caso ricordo minore, ah ok, sol diesis minore, fa diesis maggiore, mi maggiore, re diesis minore, do diesis minore, si maggiore, slide diesis e si. Allora, spunti da prendere da questo esercizio, milioni, io quando lo vedi per la prima volta, mi misi subito a fare queste triadi a due ottave, innanzitutto trovando la mia diteggiatura, che poi corrispondeva, cioè la mia preferita corrispondeva a quella che mi sembra utilizzi lui, quindi questa, facciamo sol, sol, si sulla corda di mi, poi quinto tasto suono re, quinto tasto del re suono sol, allargo, col mignolo suono di nuovo la serza maggiore che il si, sulla corda di re il nono tasto, con l'indice suono sul settimo tasto della corda di sol il re, e di nuovo mignolo, mi allungo, mi allargo, suono suono l'ottava, sol, e uso la stessa per scendere. Ovviamente si può fare in altri modi, oppure, 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 si può anche salire in un modo e scendere in un altro. Si può anche modificare l'esercizio e, ad esempio, un'idea è quello di farle tutte discendenti, cioè, al contrario, quindi partire in modo, nel senso discendente e risalire. Quindi, partendo dal si, ad esempio, si bemolle, la, la bemolle, eccetera, eccetera. Oppure, partire in senso discendente dal si, ad esempio, e risalire dal si bemolle, può essere un'altra alternativa. Scendo da la, eccetera, eccetera. Tutti questi esercizi si possono anche, anzi, si dovrebbe, farli anche su le triadi minori, le triadi diminuite, le triadi aumentate. Dopodiché, passare anche a, invece, le triadi arpeggi, le quadriadi, insomma, di settima, ad esempio. Faccio la stessa cosa, però, inserendo la settima. Eppure minori. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, anche qui si può prendere veramente tanti spunti per studiare, per ampliare la nostra conoscenza di tutte le triadi, gli accordi, gli arpeggi, eccetera, eccetera. Fondamentale, questa cosa, su tutta la tastiera. E poi è un ottimo esercizio anche per la coordinazione delle due mani. Quindi, se si aumenta un po' la velocità, torno all'esercizio originale. Partiamo dal Mi. Aumentando la velocità, ovviamente in modo graduale, come vedete, anche io ho perso qualche nota via via. Potete mettere in loop, come sempre, un pezzetto alla volta della triadi. Aumentando la velocità, aumenta anche la difficoltà della coordinazione tra le due mani, come dicevo prima. Quindi si lavora anche sulla mano destra. Vedete? Si può associare anche a una delle lezioni che ho fatto ultimamente, per guardare il meno possibile la tastiera mentre si suona. Quindi vedete che da un esercizio si può ricavare un'infinità di spunti per studiare, per ottimizzare il tempo a disposizione. Eccetera. E si può anche fare, ad esempio, terzine. Facciamo minori. Sto facendo quindi triadi minore. Quindi stessa cosa per un minore. Mi, sol naturale, si, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, si, sol, mi. Eppure diminuite. Aumentate. Quindi mi, sol diesis, do, si, diesis. Chiamiamolo do. E via dicendo. Quindi, l'altro spunto che mi dà questo esercizio è quello dei B-cordi, appunto di inserire nelle nostre frasi, nel nostro modo di suonare, nei nostri groove, i nostri giri di basso, i B-cordi. Quindi, in questo caso, lui, semplicemente, armonizza una scala. Quindi, è scala maggiore di B. Abbiamo, quindi, B maggiore, do diesis minore, re diesis minore, mi maggiore, la diesis maggiore, sol diesis minore, la diesis minore, si maggiore. Le fatti scendenti. Le fatti scendenti. Dove Giacomo, appunto, mostra a Jerry il suo utilizzo di double stop. Chiamiamoli così. Non ho mai capito perché è double stop, però. Ricordi. O anche accordi con la 7. Ma si vedrà nella prossima puntata. Per oggi è tutto. Ragazzi, studiate. Come ha commentato giustamente, mi sembra Roberto, spesso si tende a dire Giacomo non va studiato perché Giacomo è unico. Io, invece, nel mio piccolissimo, no, nel mio piccolissimo, voglio tentare in tutti i modi, tant'è che gli ho dedicato due libri, di portare avanti e di non far dimenticare a nessuno questo eccezionale musicista, ma definirlo così è riduttivo. Perché è il mio mito e perché penso che, come tutte le cose col tempo, si rischia di dimenticarle. No, però, che perda, diciamo, quell'influenza che ha avuto fino a tempi più recenti su milioni e milioni di bassisti. La mia paura è che vada via via scemalo e che giustamente la vita va avanti e i bassisti sono anche avanzati tecnicamente. Io vedo dei mostri ultimamente su YouTube, però, personalmente, ho sempre fatto complimenti e io mai arriverò a un livello del genere. Però, ripeto, personalmente non mi trasmettono quello che mi trasmette Giacomo, come tanti altri bassisti anche meno virtuosi. Così, ripeto, anche se Giacomo era virtuoso e che è virtuoso, però le tecniche possono andare avanti e sento cose che magari non l'ho sentito fare nemmeno a lui. Però quello che mi trasmette lui è indescrivibile e io nel mio piccolo, ripeto, cercherò di portare sempre avanti e di tenere sempre alto il nome di questo personaggio fantastico. Quindi vi aspetto al prossimo video.